Sei associazioni di categoria hanno sottoscritto per la prima volta un protocollo d'intesa sugli standard di qualità nel turismo abruzzese. Stiamo parlando di Federalberghi Confcommercio, Federal Turismo Confindustria, Assoturismo Confesorcenti, Ciaturismo Verde e Coldiretti. Il decisivo passo avanti nella promozione e nella qualità dell'offerta e dei servizi turistici in Abruzzo è promosso dalla Federazione dei Professionisti Abruzzesi del Turismo Esperenziale, presieduta da Paolo Setta. Quella di oggi è davvero una giornata importante, oserei dire storica. Spieghiamo perché. Sì, oggi è una giornata storica perché le maggiori sigle della ricettività e dell'accoglienza turistica, insieme a noi, Federal Pate Confesorcenti, che rappresentiamo tutto il mondo dei professionisti dell'outdoor, del turismo attivo esperienziale, formalizziamo, certifichiamo il sistema turistico integrato. Facciamo sistema un protocollo di intesa con il quale vogliamo dire a tutte le strutture e a tutti gli operatori della ricettività e dell'accoglienza turistica invitiamo tutti coloro che saranno i potenziali turisti visitatori dell'Abruzzo a venire a dormire nelle strutture qualificate ed uscire dalle stesse strutture affidandosi a professionisti qualificati, titolati, certificati. Noi che rappresentiamo tutti questi professionisti dell'outdoor incentiviamo i nostri ospiti ad andare presso strutture ricettive qualificate e certificate. Questo genera un sistema turistico integrato virtuoso e di qualità e quindi realizziamo un modello che fino ad oggi non c'era in Abruzzo è un modello che non deve inseguire altri modelli ma deve essere un modello autenticamente abruzzese. In sintesi un turismo di estrema qualità. Sì perché lo vediamo a livello internazionale e nazionale le sfide future poggeranno non sui numeri ma sugli standard di qualità e quindi se vogliamo, non dico cogliere ma anche vincere perché bisogna essere ambiziosi, vincere queste sfide dobbiamo fare un turismo di qualità.